Raga, sono pronto a provare la vera sfida dei pro player su Fortnite E voi adesso vi starete chiedendo Bibo, ma che sfida è? Vi dico già subito che lancio anche voi questa sfida Voglio vedere voi cosa sarete in grado di fare Sfida è semplicissima ragazzi È veramente spiegata così, è veramente facile Ma posso assicurarvi che è veramente qualcosa di difficilissimo Perché dico questo? Perché bisogna essere in grado di costruire Bisogna essere raga, non dei maestri di più Essere bravissimi a costruire, improvvisare E riuscire a tenere test ai nemici Perché quale sarà la cosa? Bisognerà riuscire a vincere i fight senza poter sparare Adesso vi spiego subito perché Vedete lo shop che ci sta qua? Come vedete c'è questo nuovo skin, questo nuovo skin Vabbè c'è difensore scarlatto e abbaglio Perché vi sto facendo vedere lo shop? Perché la sfida di oggi ragazzi è questa Io potrò uccidere solo skin uscite nello shop No skin e skin rarissime Quindi Ghoul Trooper, Recon Expert e Renegade Rider E anche, scusate, anche ovviamente lo school trooper viola Quindi io potrò sparare solo a skin uscite nello shop Perché saranno pochissime A no skin, che molte volte sapete che dietro di no skin si c'è La sembra qualcuno di forte Poi vabbè ragazzi non c'è neanche bisogno che ve lo dica E potrò fattare anche contro skin rarissime La sfida sarà questa Avrò quattro partite con questa challenge In cui dovrò sommate Cercare di fare il maggior numero possibile di kill E poi fare una partita normale senza regole E vedere dove riesco a fare più kill Quindi questa challenge ragazzi sarà difficilissima Perché dovrò riuscire a tenere testi ai nemici senza sparare Dovrò riuscire a uscire dai fight senza poter sparare E credetemi che sarà davvero difficilissimo E' quello come sempre di supportarmi nello shop Con b-player1 Detto questo ragazzi direi che possiamo iniziare Iniziamo le quattro sfide delle skin Possiamo andare Allora ragazzi Prima partita direi che andiamo a corso commercio Ok ragazzoni Per il momento siamo messi davvero bene Cioè nel senso guardate che lutto C'è gente che si spara qua Andiamo a dare un'occhiata Andiamo a vedere se sono skin che io potrò uccidere Vediamo un po' Allora Dai 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 No quella no Quella è l'altra non vedo Non vedo No Quella è la skin del pass Andiamo via andiamo via Peccato raga non posso faitare Vabbè anzi forse è meglio Raga non vi sono lì Non riesco a capire che skin sia raga Sapete cosa vi dico Me la rischio al massimo E proviamo la challenge così Andiamo a pusharlo Capisco che skin è raga Non è una skin No No Non posso faitarla Non posso ucciderla Non posso spararli Raga devo tenere Capanna Shadow Per forza raga Non posso fare nient'altro Beh raga adesso Nulla mi vieta di buttare giù ragazzi Sto solo piccolando delle strutture Muoviamoci 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 raga Raga ultima scala Ok cade tutto Però non posso sparare Sono pronto a coprirmi Uno Due E gg raga E gg Uuuuh Quanto bel loot Vabbè raga Shot che lo dobbiamo già Lì li prendiamo Siamo il materiale Direi che ci siamo Ok raga Quella skin io non posso faitarla Ok Neanche l'altra Sono entrambi skin del pass Morti entrambi Quello lì che sparano Non so che skin abbia raga Teniamo la jump Madonna raga Se dovessi vincerla così Se dovessi vincerla così Andiamo Non so capire ancora che skin è Calma Bibo No 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 Ecco ho fatto una cavolata Ho fatto una cavolata Ma mi lasera Vorrò fightare tra loro Teoricamente Oddio raga Oh mio dio Arrivando la safe Copriamoci sopra No Poi sono pompata Ci copriamo così Oddio no Non ho più shield No non posso faitare No Eh raga Quella giocata è davvero male Non potevo faitare nessuna Delle due skin raga Vabbè raga Prima partita è due kill Non so neanche io come l'abbia fatta Ma ho fatto due kill Ok raga ce ne sono qui Siamo usciti a tilded ora Non ho idea di che skin abbia Allora abbiamo solo una mitraglietta raga Eh Ecco si è curato Uno skin Uno skin Easy bro Easy bro Distrutto Alla Mamma mia raga quanto è difficile sta challenge però È difficilissima eh Quella un difensore scarlatto No Dai dietro Quella un difensore scarlatto Posso faitare Prima di shieldarmi Dai Queste granate Bro Dai raga C'era troppa gente Mi assicuro che io ho appena visto Uno skin Sono sicuro che ci sia Eccolo là infatti Ora mi più O adesso mi più Tato Ok Bro Bro Eccolo Oddio raga Mi ha adesso vista brutta No raga non posso faitarlo No raga cosa faccio Non posso spararli La skin di natale No raga Cosa faccio Cosa faccio No Eh Dai raga Questa che sfortuna Ma dai ma che sfortuna Porca misera raga Che sfortuna L'ho trovato proprio lì Raga un difensore scarlatto Questo Non si è mosso questo Sì sì guys Dai raga Stiamo massi abbastanza bene Andiamo a 5 Oddio raga Oddio quanto sono 5 kill raga 5 kill Questa è l'ultima partita Che ho a disposizione Devo fare un po' di materiale Perché come sapete Se dovessi incontrare qualcuno Che non posso faitare Devo iniziare a buildare Il mondo raga Non dirmi che viene qua Non dirmi che viene qua Questo Ecco infatti viene qua Oddio raga Questo mi puscia Questo mi puscia Oh ma perché mi sparava solo il joystick What Basta Raga mi sparava solo Questo vorrà bucchiarmi su quel muro Io vi dico una cosa raga Dico una cosa raga Io me ne vado Non posso faitare Non ho visto che skin avesse Ma vado sulla fiducia Tra l'altro mi sembra Visto in giro Una nuova skin raga Che non so se Allora ragazzoni La sfida delle skin Si è riuscita a fare 5 kill Adesso avrò solo una partita in solo Riuscire a fare più kill E questa sarà senza regole Quindi ragazzoni Vabbè adesso Cercheremo di giocare meglio Ok raga Ce ne sono qui Ho solo una K Ok Ucciso Ok E lui è alto Homsor raga Quindi non è che era così facile Facci 100 sicuro raga Quello Fermo Quello fermo Easy Headshot Vabbè raga Era fermo dai Perché non ho il pompa io raga What Sta sopra No raga Adesso ho due kill No vi prego Non posso aver fatto più kill Nella sfida delle skin Bro Ma raga I suoi inizi del gioco Sono un po' Un po' discutibili Eccolo Raga Questo è lo shotgun È finita Devi fare una cosa raga Tengo un po' di distanza Sì 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 Aspetta che picconi One Easy Allora raga Ce ne sta uno qua sotto Tipo nascosta da un'ora Adesso questo è sicuro È sicuro lì già mirato Guardate Vi faccio vedere come morire Siete pronti? Guardate Mi devo mettere subito il muro adesso Muro Ok No No l'ha fatto veramente Vai a casa bro No dai raga Con le ballerine Trappola Trappola che non va Distrutto Ragazzi l'ho distrutto Non ho più vita Oddio Questo build Non spara Easy Sei kill Appena è lì Tu ti ti una pompata Guardate Sì ti ti una pompata Bro che vedi Non ci credo C'è qualcosa Ho fatto Ma raga Non è esagerato Ok Però ragazzi Dai ho 60 di vita Avevo lui 200 Cosa fa? Ecco il barrazzo Forse rischio di tirare il kit Forse Allora calma Qua dobbiamo giocarci alla di brain Perché non ho shield E sono due No Ho finito i materiali raga Lui è stato trappato Poverino Poverino L'ho visto ora nelle feed Non ho più mazze raga Porca miseria Raga ho 60 di ferro Vittime cosa devo fare Non so cosa fare raga Giuro Ok l'abbiamo fatto cadere Niente Eh raga Tutti che materia Continua a buildare Basta Non ci credo Raga l'ho tirato Intanto un'altra puzzolente Questa raga È finita Non posso Dici di vita Non ho materiale Questa lancia razzi Raga è l'unica arma Che non doveva avere L'ho settando Sì Prima farlo cadere così Dai bro scendi però Dai Certo Dai Raga Dai Questo lanciar Nove di vita Viva Con i lanciarazzi Raga è troppo facile Lui senza materiali Peccato raga Peccato cavolo Potevo fare un po' di kill Peccato Allora ragazzoni Il video di oggi Finisci qui Spero vi sia piaciuto Questa challenge Alla fine Sono riuscito a fare Più kill Nella challenge Senza regole Che non Nelle quattro partite Dove potevo uccidere Solo skin Dello shop Schirrare No skin Provateci anche voi raga E vediamo quanti kill Riuscirete a fare Fate così Caricate il video raga Scrivete Provo la sfida Delle skill Di vivo player Se ne commenterete Qua sotto Nel video Con quanti kill Avete fatto Io passerò Nel vostro canale E darò l'occhiata Magari commenterò Anche il vostro video Vediamo voi Quanto riuscirete a fare Spero che io vi sia piaciuto Ragazzoni Facciamo Non so se chiedere 5 o 7 Proviamo 7 mila Non mi ricordo All'inizio del video Quanti me l'ho chiesti Ragazzoni Io vi saluto Spero che ci vediamo Al prossimo video Alla prossima live Fate i bravi raga Volete diventare Dei veri bibini Allora basterà andare Nello shop In basso a destra Supporto anche l'autore Basterà digitare Bibo trattino basso Player 1 E fare accetta Una volta fatto ragazzi Mi starete direttamente Supportando nello shop Con il vostro acquisto Di V-Bucks State attenti Perché ogni due settimane Ragazzi ve lo tollerà In automatico Dallo shop Quindi dovrete rimetterlo L'acquisto che verrà fatto Che sia skin Piccone Baglie Mimetiche Andrà direttamente A supportarmi